Arrivano dall'esperienza di Turco Costruzioni, aziende edile che nel tempo si pose tra le realtà più consistenti dell'indotto di Eni. Dopo la fine della società per loro ci sono stati solo periodi di lavoro saltuari. Questa mattina gli operai Calogero Loporto e Salvatore Catania insieme anche a Giuseppe Raniolo hanno raggiunto i tornelli di raffineria e hanno improvvisato un sit-in per rendere pubbliche le loro difficoltà. Non riescono a rientrare in fabbrica. Loporto, dopo oltre 30 anni di indotto, ha lavorato per pochi mesi solo lo scorso anno per finire poi nuovamente fuori dal ciclo produttivo. Stamattina noi siamo qua manifestati davanti alla raffineria perché siamo fermi, nessuno ci chiama a lavorare. Ora io parlo, io ho 61 anni, ho lavorato in raffineria dall'86 fino al 2018, poi dal 2018 ad arrivare ora ho fatto tre anni di disoccupazione e un anno di lavoro e ancora oggi noi aspettiamo se qualche ditta ci chiama. Catania invece da almeno tre anni non riesce più a trovare un'azienda disposta a dargli fiducia nonostante debba convivere con l'invalidità legata a una patologia. Io posso lavorare, sono categoria protetta, il mio lo faccio sempre, però è da 2021 che non sono chiamato a lavorare, non capisco perché. Quindi in questi anni come hai fatto? Eh, sopravvivo, io ho una piccola pensione di 300 euro al mese e sopravvivo. La tua volontà però è quella di rientrare a lavorare? Certo, io voglio il lavoro, anche perché io ogni mese devo andare a Catania per curarmi tutti i mesi, tutti i mesi, fino a che signora mi tiene qua, sulla terra. Il terzo di loro, una collocazione provvisoria l'ha trovata ma ora in ferie obbligatorie perché dice per lui non ci sarebbe lavoro. I tre operai si pongono interrogativi sull'efficacia del bacino di disponibilità che era stato inizialmente costituito per dare priorità nelle assunzioni agli operai storici e l'indotto e dei sindacati adesso non si fidano più. Tutti lo sanno ma nessuno si muove. Vogliamo il lavoro, dobbiamo lavorare, ci tocca lavorare, è il nostro diritto, siamo dal bacino, dicono che siamo dal bacino e nessuno ci chiama. Io devo ringraziare solo la dittatura costruzione che a 2018 e 2008 mi ha visto a Telegela e mi ha portato a lavorare 11 anni con lui. Solo a lui devo ringraziare io. Insieme hanno deciso che in mancanza di riscontri non c'era altro da fare se non portarsi ai tornelli per chiedere un supporto. Nel frattempo vivono un paradosso, c'è chi li ritiene ormai troppo anziani per assumerli ma al contempo non hanno ancora i requisiti per il pensionamento.